Mimmo Tallini ne ha come sempre per tutti. Pretende le dimissioni del vicepresidente della giunta regionale Antonio Viscomi, grina all'inciucio tra l'esecutivo calabrese e Forza Italia, stranamente silente sui fondi elargiti alla fondazione di Galati. Per il governatore Mario Oliverio, l'ex assessore della giunta Scopelliti, è invece vittima di un colpo di sole nel mirino. Nuovamente neanche a dirlo la fondazione calabresi nel mondo che fa riferimento al parlamentare Lamettino, già al centro di mille polemiche e da mesi nel mirino della procura della Repubblica di Catanzaro per un centineo di collaboratori contrattualizzati nel periodo precedente alle elezioni europee dello scorso anno. Parla di trasversalismo inquietante Tallini, l'esto a rilevare una strana sincronia tra il ritiro di alcune firme per il referendum sull'abrogazione dello statuto e il rifinanziamento della fondazione alla quale sono stati allargiti fondi per 4 milioni di euro che avremmo potuto utilizzare Tuona per scopi più nobili piuttosto che per rimborsi all'onorevole Galati e chiede le dimissioni di Antonio Viscomi, presidente del comitato scientifico. Immediata la replica di Oliverio che dopo aver rammentato lo stanziamento in gente di fondi da circa 10 milioni di euro da parte della giunta Scopelliti di cui Tallini era assessore, ha chiarito la posizione del professor Viscomi indegnamente tirato in ballo. Non è stato lui il presidente, spiega il capo dell'esecutivo regionale, ma il coordinatore del comitato scientifico composto da eminenti personalità. E dal fronte destro Iole Santelli parla di un attacco inusuale da parte di un collega di partito, a conferma del fatto che i toni rimangano accesi in Forza Italia e gli equilibri sempre più labili.